Marcello Barbata fu un artigiano socialista, amministratore della Cassa Rurale di Paceco, ma soprattutto viene ricordato come l'ideatore della Biblioteca Comunale nel periodo in cui fu assessore sotto l'amministrazione comunale dell'allora sindaco Pietro Grammatico. A lui stamattina è stata intitolata una strada del Comune di Paceco in sostituzione della Via Nausica. Complessivamente saranno nuove le modifiche della toponomastica stradale che l'amministrazione del sindaco Scarcella è in programma per dare lustro a personalità pacecote che si sono distinte in ambito sociale, culturale e politico. L'amministrazione comunale ha inteso dare lustro e dignità a coloro i quali hanno dato un grande contributo per la crescita della nostra comunità. Marcello Barbata è stato veramente una persona di cui bisogna essere fieri per le opere che ha posto in essere. è stato un brillante artigiano e non solo perché era molto impegnato in politica, è stato consigliere comunale, assessore e da assessore alla cultura ebbe il grande merito di avere spinto per la creazione di una biblioteca comunale a Paceco che non esisteva. Ciò è avvenuto nel novembre dell'anno 1957 con apposita deliberazione consigliare, la numero 106 mi dice il figlio che è qua accanto a me, il quale ebbe il grande compito e merito di averla diretta per oltre 40 anni, quella biblioteca che venne istituita molti anni prima da papà suo. Quindi noi siamo grati a Marcello Barbata e abbiamo inteso attribuire questa via, così come siamo grati ad Alberto per avere donato al paese tutto quello che in termini culturali ci ha dato. Io avevo 13 anni quando mio padre in consiglio comunale fece approvare lo statuto regolamento della biblioteca comunale, la fondazione della biblioteca comunale, che diceva lui segnerà una pietra miliare nella storia di questo paese e fu vero perché oggi se questo paese ha una biblioteca lo ha anche per merito di questi bravi artigiani che in quel periodo, nel tempo del blocco del popolo, amministrarono il paese.